Ci troviamo nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli, presso l'aeroporto intercontinentale di Roma Fiumicino, dove in accordo con la Società Aeroporti di Roma, la Caritas Diocesana ha avviato un progetto di assistenza per persone senza fissa dimora. In occasione della quarta giornata mondiale dei poveri ne abbiamo parlato con il parroco Don Giovanni Soccorsi. Tendi la tua mano al povero e il tema della quarta giornata mondiale dei poveri. Un richiamo alla concretezza, soprattutto in questo tempo di pandemia. Cosa ne pensa? Papa Francesco, con l'istituzione di questa quarta giornata mondiale per i poveri, è stato un grande dono per la Chiesa, ma non solo anche per il mondo intero. È un'occasione importante che il Papa ci ricorda di vivere ogni anno, ogni giorno, ogni ora della nostra esistenza, proprio come Gesù ce lo ha testimoniato e come Gesù ci invita a fare verso coloro che sono i più deboli, i più fragili. Gesù che li chiama i più piccoli, perché i piccoli sono i più fragili, sono quelli maggiormente esposti. E in questi piccoli talvolta ci sono gli adulti che sono come loro, hanno bisogno di tutto, perché si perdono, perché soffrono, perché hanno delle grandi inquietudini, dei grandi turbamenti. È un grande dono questo grande intuito del Papa di istituire ciò che è molto caro a Gesù nel Vangelo. Sono diversi senza tetto che si trovano nell'aeroporto. Come riuscite a tendere loro una mano? Noi abbiamo teso la mano con la concretezza dell'incontro, della conoscenza e poi di trovare tante possibilità per migliorare la loro situazione. Il proprio di questi senza dimora presenti in aeroporto è stato quello di aiutarli nel ricostruire un po' la loro storia, i loro documenti, aiutarli a rientrare nei loro paesi, a ricostruire le loro relazioni familiari. Abbiamo due tipologie di servizi che noi facciamo. Quella di incontrare i senza dimora che erano presenti nell'aerostazione e che adesso si sono ridotti notevolmente perché il servizio ha funzionato in questi anni. E poi ci sono altri senza dimora che la parrocchia accoglie per un lungo termine. Cioè noi proprio seguiamo la persona per più mesi, talvolta anche più anni, perché è una storia che è possibile fare un progetto, è una storia che siamo in grado di sostenere, una storia che siamo in grado di abbracciare, di farcene carico e questo ha portato molto spesso a degli ottimi risultati umani e spirituali. A chi afferma che la Chiesa dovrebbe occuparsi solo delle questioni prettamente spirituali, che cosa risponde? Direi che hanno perfettamente ragione, ma dallo spirituale si passa poi alla concretezza della carità. Non si può arrivare alla carità senza la spiritualità e non si può vivere di spiritualità senza la carità. Sarebbe proprio assurdo, sarebbe come camminare con una gamba soltanto, avere un solo braccio, oppure non avere il cuore ma avere solo la testa e così viceversa. C'è necessità di entrambi, di spiritualità, di carità, di umanità. C'è bisogno di tutto quello che il Signore ci ha donato, che non è nostro. E lì l'errore, quello di sentirci proprietari di, proprietari di una parola, proprietari di qualcosa. Ma in realtà non è così. A noi quello che ci ha donato dobbiamo ricambiare, dobbiamo ridonarlo. E quindi viene proprio la necessità di essere, sforzarsi, di raggiungere quella completezza cristiana che serve per me, serve per il prossimo, serve per coloro che mi vedono, che io vedo, con cui condividiamo, con cui testimoniamo.